I funnel di marketing sono uno dei temi più in voga in questo momento e ovviamente c'è una buona ragione. Ma che cos'è esattamente un funnel e soprattutto come puoi sfruttare la potenza di questo incredibile strumento nella tua attività? Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio del podcast Scuola di Vendita. Io sono Mirko Cuneo e oggi ti spiegherò che cos'è un funnel di vendita. Un funnel di vendita è un sistema che ti consente di tracciare il percorso del cliente dal primo momento in cui clicca sul tuo annuncio non avendo la minima idea di chi tu sia fino a farlo diventare un tuo cliente leale e fedele. Il bello di un funnel è che riesce a fornire una rappresentazione grafica di quello che spesso può essere difficile da visualizzare in un argomento così complesso. Per creare il tuo funnel si può dare un'occhiata alla tua attività e ovviamente a come acquisisci i tuoi clienti, quali sono le decisioni che prende il tuo potenziale cliente per far sì che si faccia un'idea del tuo brand fino a diventare ovviamente un tuo cliente. Il mio suggerimento è di usare queste quattro fasi, traffico, conversione, lancio e decollo. Il primo passo ovviamente è quello di identificare dove si stanno trovando i tuoi potenziali clienti, quali piattaforme stanno frequentando e come catturare i loro contatti quando atterrano sul tuo sito. Hanno trovato il tuo sito attraverso i social media, tramite un motore di ricerca o un annuncio a pagamento che hai pubblicato? Una volta che ovviamente hai identificato le tue sorgenti di traffico, puoi iniziare a confrontarli l'uno con l'altro, in modo da andare a comprendere su cosa puoi puntare maggiormente. Una volta che ovviamente il tuo potenziale cliente è arrivato al tuo sito web, alla tua pagina di destinazione, il prossimo passo è quello di convincerli a prendere un piccolo impegno e intraprendere una qualche forma di azione. Se stai vendendo un articolo a basso prezzo, allora quell'azione potrebbe proprio essere l'acquisto del prodotto. Se stai vendendo a un prezzo un po' più alto, un oggetto come un notebook da 1000€, quel piccolo impegno potrebbe essere un'azione poco impegnativa, come ad esempio scaricare un piccolo report tecnico. Il punto è che vuoi incoraggiarli a fare il prossimo passo nella relazione che vuoi instaurare con loro. Sia ovviamente che si tratti di ottenere le loro informazioni di contatto come il nome e l'email, o perché no, un numero di telefono, o anche concordando una telefonata di follow up. A questo punto del funnel lavorerai con pochi contatti, ma va bene così, perché quelli che sono ancora con te sono di qualità superiore e sono ovviamente più interessati a quello che hai da offrire, hanno anche intrapreso una qualche forma di azione, un microimpegno e sono ovviamente molto più aperti a quello che hai da offrire. È proprio in questa fase in cui è necessario iniziare il processo di follow up e alzare il valore che puoi offrire loro. Quindi, continua a coltivare queste relazioni con i tuoi contatti, fornendo informazioni più utili e preziose, ma allo stesso tempo non avere paura di tentare di chiudere la vendita. Se hai fatto un buon lavoro nel guidarli lungo il loro viaggio fino a questo punto, il prossimo step è quello di offrire un prodotto o un servizio. Ora è arrivato il momento di valorizzare ed elevare il tuo rapporto con i tuoi clienti. Seguire i tuoi clienti recenti è uno di quei modi più veloci per consolidare la tua posizione come azienda che si occupa veramente dell'acquirente. Questa fase è davvero molto importante perché scatena il rimorso dell'acquirente, ovvero le prime 24-48 ore in cui è necessario calmare eventuali ansie e consolidare le decisioni dei tuoi clienti nel fare affari o acquisti con la tua azienda. In questa fase devi riassicurare il più possibile il tuo cliente, in modo che si senta abbastanza sicuro di parlare del tuo brand con amici, colleghi, la famiglia o addirittura gli estranei. Il bello di questo funnel è che quando organizzi tutti i risultati arrivano davvero molto velocemente. Illustra in modo rapido e visivo il percorso ai tuoi clienti al fine di eliminare eventuali colli di bottiglia e crea un sistema che ti permette di generare lead, convertirli in clienti e poi trasformare quei clienti in clienti fidelizzati del tuo marchio. Bene, anche per oggi è tutto. Se il contenuto ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, lascia un like e un commento. E se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Anche per oggi è tutto, noi ci sentiamo presto.